Intanto grazie per il maestro, ma io purtroppo non sono in grado di insegnare proprio niente a nessuno. Non so dirti, io ripeto sempre, io non sono un promotore finanziario, non saprei consigliarti. Quando io ho avuto un gruzzolettino da parte, ho aperto un'attività online, perché ho pensato all'epoca, e sto parlando di sei anni fa, che questa potesse essere la strada più giusta per avere un piano B, da arrancare al mio lavoro tradizionale. Ma questo è quello che ho fatto io, non do consigli di carattere finanziario perché non è il mio lavoro, quindi amico mio, fai quello che il cuore ti dice di fare e stai molto attento perché oggi i gruzzoletti sono fatti con il sudore e quindi fai grandissima attenzione se ti affidi nelle mani di qualcuno, pesa bene chi hai di fronte. Ti auguro il meglio, ti abbraccio forte. Io ti consiglio di chiuderlo il corso di studi, su ti manca poco, fai uno sforzo, sarà un sacrificio senza ombra di dubbio, sarà faticoso senza ombra di dubbio, ma chiudilo, i cerchi vanno chiusi, chiudi il tuo corso di studi e poi si vede. Oro fisico, oro fisico, i lingotti da 1 a 100 grammi blisterati, certificati e fatturati come tutti i business seri che devono avere una base di legalità, anche perché sennò io non ci potrei mai mettere la faccia. I soldi facili li possono fare in tanti, ma come dico sempre io anche le rapine le fanno in tanti. Quindi voglio dire, se uno vuole mettere da parte un patrimonio e non perdere la faccia, come ormai è successo, sapete tutti quello che è successo in questi giorni, c'è gente che non può uscire di casa perché la rincorrono, ma d'altro canto, come sempre dico io, quando i soldi sono troppo facili bisogna farsi due domande. Ciò detto, i lingotti sono fisici, puoi scegliere di tenerli sul cavo digitale del tuo back office, con la tua password o scegliere di pagarti la spedizione e farteli arrivare a casa fisicamente senza nessun problema. E senza ombra di dubbio ho anche uno dei film miei preferiti. A oggi è il più bel film che io abbia girato. Bellissimo, bellissimo. Regia di Massimo Andrei, Vladimir Luxuria d'antologia, Luca Watt, bravissimo, Maria Pia Calzone, strepitosa, Valerio Foglia Manzillo, grande protagonista maschile, bellissimo. È stata un'esperienza straordinaria, sul set eravamo tutti molto amici. È un'esperienza che non dimenticherò. Ed è un film che io rivedo ancora oggi, che è ancora attuale e che rivedo sempre molto volentieri. Anche rivedermi in quelle scene mi piace, mi diverte. Grazie, grazie mille. Lo trovate su YouTube, Maternatura di Massimo Andrei. Lo hanno caricato per intero. Chi non avesse visto questo film e vuole vederlo, è una bellissima storia d'amore. Guardatelo, Maternatura. Amore mio, la gente non capisce l'importanza del prodotto, non conosce la legge sul network marketing, non capisce l'importanza dell'etica. Tu fai network, quindi tu sai di che cosa stiamo parlando. Tu sai che io faccio network, a te non verrebbe mai in mente di presentarmi il tuo network, perché sai che io già mi occupo di altro, come a me non verrebbe mai in mente di presentarlo a te. Perché io e te siamo persone per bene, siamo persone oneste. E ciascuno di noi due si impegna per riuscire al meglio senza andare a discapito di nessun altro, perché poi siamo tutti bravi a fare i soldi a discapito di altre persone. Così come tu sai bellissimo quello che è successo in questi giorni. Ci sono piattaforme che hanno scammato, gente che si è arricchita, che era fino all'altro giorno in Lamborghini a Dubai, e che oggi probabilmente dovrà verificare come vendere il cocco. Sempre a Dubai, perché insomma fa caldo a Dubai, quindi il cocco fresco è fatto bene. Il discorso è che purtroppo c'è tanta ignoranza. Tu sei giovane, sei già molto preparato, conosci già le regole, ma non tutti i ragazzi della tua età sono disposti ad impegnarsi come ti impegni tu. La gente pensa che... C'è tanta ignoranza sull'argomento, penso che tu su questo sia d'accordo con me, e come dire, vigge un po' l'imperativo, chi se ne frega, io ho guadagnato quel poco, non funziona così. L'etica, la professionalità, il fatto di poter andare sempre a testa alta. Il fatto tra l'altro anche di perseverare nell'ignoranza, perché poi una volta che sono successe delle cose, uno poi magari si informa, invece, come dire, per certe persone c'è la refrattarietà all'informazione, alla cultura, alla conoscenza. Noi, grazie a Dio, amico mio, siamo fatti in maniera diversa e facciamo il network con coscienza e con etica e possiamo dire con grande certezza, con grande certezza di essere delle persone più bene. Io ti auguro il meglio, ma veramente il meglio nel tuo network, in quello che fai, non so cos'è, ma qualunque cosa sia, se lo fai con questa coscienza, sarei un uomo di successo, ma proprio senza ombra di dubbio. Un bacione, grazie. Conoscere le lingue è fondamentale a prescindere, su questo non c'è ombra di dubbio. Certo, se fai l'attore e sai l'inglese, puoi fare anche i provini per i film che si girano in lingua inglese, come a me ogni tanto capita di fare. È importante, conoscere le lingue è una cosa importante qualunque mestiere tu faccia, cioè conoscere le lingue è una cosa importante per la vita, non solo per il mestiere, che sia poi quello dell'attore o quello del networker. Tra l'altro conoscere le lingue nel settore del network mi ha molto aiutato perché chiaramente ho la possibilità di potermi confrontare con persone che vivono dall'altra parte del mondo nella loro lingua e quindi essere comprensibile. Quindi io credo che conoscere le lingue sia qualcosa di molto importante che ti apre la mente e che ti consente di raggiungere delle fette di mercatura che sia nello show business o che sia in altri mestieri che magari non potevi raggiungere senza conoscerle. Ebbè, certo che sì, no? È uno dei capisaldi. Se tu vuoi fare il networker e non hai mai letto questo libro, non lo puoi fare il networker. Robert Kiyosaki è il più grande autore sul network marketing e sul successo che si può avere con questo business, assolutamente. Allora, visto che si tratta di sport ti rispondo con una frase del grandissimo Yuri Keki. Avere paura è una scelta. Si può scegliere di non avere paura. Ti abbraccio forte e ti auguro il meglio. Io conto le sciure bionde in via Monte Napoleone a Milano. Non si deve dimenticare. Non devi sforzarti di dimenticare questa persona. Te la devi tenere dentro. Te la devi tenere dentro, devi aspettare che il dolore ti attraversi, te lo devi godere, che sembra una cosa strana ma in realtà è così. Devi lasciare che sopisca, piano piano, che sedimenti e poi sarà automatico andare avanti da solo e non vorrà dire che tu quella persona l'hai dimenticata. Perché le persone importanti nel bene e nel male non si dimenticano mai, restano sempre in un angolino del nostro cuore. Non devi dimenticare, devi imparare a convivere con quella presenza che magari in questo momento non è più tangibile, non la puoi abbracciare, non importa. Ha significato qualcosa perché se no non staresti così. Devi avere rispetto per quel qualcosa che ha significato. Conservala dentro di te, prenderà l'importanza che merita con il corso del tempo. Ti abbraccio.